Domenica scorsa a Villapasso, che è una frazione di Civitella del Tronte, è stato inaugurato un nuovo parco giochi proprio in aderenza vicino all'ex scuola materna di Villapasso. Siamo contenti perché da diversi anni Villapasso spetta una realtà come questa, cioè un'area verde attrezzata da destinare ai più piccoli alle famiglie e quindi siamo stati contenti di inaugurare questa nuova realtà e abbiamo visto anche grande soddisfazione da parte dei cittadini di questa frazione. C'è stata una festa per l'inaugurazione? Sì, c'è stata una festa alla quale, devo dire, hanno partecipato tutti gli abitanti di questa frazione, parliamo poi di una frazione non grandissima. Nell'occasione poi, siccome in questa frazione è stata costituita una nuova associazione che si chiama La Grascia, c'è stata una festa organizzata appunto da questa associazione e nell'occasione si è presentata anche questa nuova realtà associativa che credo potrà fare molto in quel contesto perché oggi queste piccole frazioni vivono anche grazie e soprattutto a queste realtà. Un'associazione di giovani quindi? Sì, un'associazione di giovani e meno giovani. Il presidente che è Pier Giuseppe Di Giacomo è giovane, è un ragazzo, ma ci sono anche persone non giovanissime ma che hanno lo spirito giusto, cioè quello spirito associativo, di condivisione che è fondamentale in queste realtà.